Ora non sapevo cosa fare così mi ho deciso di improvvisarmi in un piccolo video di buonanotte per augurarvi buonanotte a tutti buonanotte a quelli che andranno a letto tardi perché devono studiare in tal caso in bocca al lupo per domattina se avete un esame buonanotte a quelli che si addormenteranno col cellulare in mano aspettando un messaggio che non arriverà quindi magari andate a letto subito e vaffanculo buonanotte a quelli che domattina si devono alzare presto per andare a lavoro oppure a quelli che non andranno a letto fino domattina perché magari sono fuori a festeggiare buonanotte a tutti i laureati, i neolaureati e a quelli che hanno appena iniziato l'università, la scuola o a quelli che magari sono appena diventati genitori e quindi cazzo non dormiranno per niente vabbè buonanotte a tutti anche a quelli che quest'estate andranno in giro con i sandali e i calzini ma si buonanotte anche a loro cazzo buonanotte a tutti e in bocca al lupo per tutto anche per per dei bei sogni buonanotte buonanotte